Sono Elisa Ardito, frequento la Facoltà di Architettura di Bari, mi sono diplomata 5 anni fa presso il Liceo Classico Domenico Morea di Conversano. A distanza di tempo ho capito meglio il valore della formazione ricevuta durante il mio percorso liceale a favore di una forma mentis e di un metodo che mi hanno dato la possibilità di intraprendere una carriera universitaria non strettamente umanistica e soprattutto la capacità di rapportarmi con il mondo circostante. Infatti vorrei sottolineare che il Liceo Classico non dà una formazione ormai obsoleta ma assolutamente competitiva rispetto alle esigenze attuali. Tanto è vero che gli insegnamenti ricevuti, anche quelli relativi alla matematica e alla fisica inglese mi hanno dato la possibilità di affrontare e di superare non solo gli esami relativi a questi insegnamenti durante il mio corso di laurea ma anche dato gli strumenti per potermi rapportare a dei contesti internazionali quali l'Erasmus in Portogallo, tavoli di lavoro e workshop.